Lavori in corso in sala consultazione e in sala periodici. Da luglio i due settori, pur accessibili a studiosi e ricercatori, sono infatti sottoposti a lavori di muratura, verniciatura degli scaffali, etichettatura e ricollocazione di migliaia di documenti. Il risultato sarà uno spazio più ampio e meglio allestito, con un maggior numero di tavoli di lettura e postazioni di studio, che ripagheranno l'attesa di un'apertura ormai prossima. Il risultato sarà uno spazio più ampio e più ampio.